La Settimana Santa è per noi il grande evento da sempre. Sul Mona ha questa possibilità, adesso dicevamo con l'Expo, che sarà una vetrina, non solo sul Mona, è il nostro territorio, perché mi piace di parlare del nostro territorio. La Settimana Santa sicuramente sarà presente, è un grande evento ed è un segno distintivo della nostra città. Quindi rivolgo un plauso veramente a questa iniziativa che è importante, importantissima, non solo perché ci dà una testimonianza di quello che accade nella Settimana Santa qui a Sul Mona, lo dà a noi cittadini di Sul Mona, perché spesso anche noi non conosciamo fino in fondo le attività che portano avanti le confraternite e tutta la storia che è intorno alle manifestazioni pasquali. E soprattutto, come diceva giustamente Antonio, porteremo fuori da Sul Mona, quindi con l'Expo non solo fuori da Sul Mona, fuori dall'Abruzzo, in Italia, ma lo dobbiamo portare fuori a livello internazionale. Questo DVD oltretutto sarà anche tradotto in cinese, in giapponese, in inglese, quindi ci saranno diverse traduzioni e quindi veicolerà anche fuori dalle mura europee e italiane.